Si è creato un importante protocollo insieme ai cinque prefetti delle province marchigiane sul coordinamento dell'attività di protezione civile per i prossimi due anni. Sia per quello che si dovrà fare in emergenza in modo da coordinare tutti gli interventi, sia in tempo di pace quando si progetta, si fa tutta quell'attività di prevenzione attraverso quelli che sono i piani di emergenza, sono estremamente utili poi al momento del bisogno, una collaborazione istituzionale che si rinnova, atti che poi si trasformano in fatti concreti. Continua infatti il nostro impegno per la protezione del nostro territorio, è stato contratualizzato un elicottero per il sistema antincendio che da cingoli coprirà tutta la regione con la capacità di mille litri di intervento dall'alto in caso di incendio buschivo, così come il protocollo siglato con i vigili del fuoco che ha incrementato le risorse per un'attività sempre più intensa di prevenzione di incendi, così come ad esempio le 40 piazzole per il volo notturno che ci permetteranno di estendere l'elisoccorso H24 in tutto il territorio regionale. Tanti fatti e tanti impegni che permetteranno di sentirci sempre più sicuri nel nostro territorio.